Musica Sono qua per fuoristrada in video per la primissima volta dopo 52 anni su una strepitosa pista Qui al Ciglione e a Malpensa possono correre i piloti sui quad Questa è la quinta tappa della Polaris Cup I piloti sono sempre di più Abbiamo visto gli altri trofei, gli altri campionati Quindi peggio per loro che non fanno quello che stiamo facendo noi Andiamo avanti così Musica 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 Musica